Vedute paesaggistiche e ritratti, ciò che colpisce nei dipinti di Licia Fontanesi è la freschezza dell'immagine, classica nella costruzione dello spazio ed espressiva nel suo cromatismo dai toni caldi e naturali. Milanese, Licia Fontanesi segue un percorso di studi accademico, liceo artistico ed Accademia di Brera, all'Università studia filosofia e psicologia. L'artista propone una visione molto personale ed intima della realtà che la circonda. Il suo approccio alla pittura è psicologico, il quadro è il risultato di ciò che il suo autore vede ma soprattutto sente. Disegno e colore sono gli elementi fondamentali attraverso i quali Licia Fontanesi racconta la psicologia del soggetto raffigurato. Un disegno essenziale nelle forme, molto minimalista, talvolta primitivo nelle volumetrie e nelle proporzioni, ma proprio per questo intimo ed espressivo. Un colore delicato, il cui bilanciamento determina la profondità dello spazio, dà armonia ai volumi. Il gioco di chiaro e scuro suggerisce la tridimensionalità dell'immagine. Nei paesaggi, racconti di luoghi vissuti, l'azzurro sfumato del cielo e il verde della natura scaldato dal rosso-arancio della terra creano atmosfera, che rimanda al ricordo di quel luogo. Perché il soggetto non è soltanto colore, è sensazione. Il carattere introspettivo della pittura di Licia Fontanesi è ancora più evidente nei ritratti. L'artista cerca di entrare nella psicologia del personaggio, raccontando ciò che quel volto le comunica. Un volto che non necessariamente è riproduzione fedele della realtà, ma è reale e vero nel sentimento, nella sensazione, nell'emozione che riesce ad esprimere. L'artista ama il contatto diretto con i soggetti che va a raffigurare, che da lei vengono poi interpretati con poesia, con immaginazione, con delicatezza espressiva. Grazie.